Un deposito comunale è la sede distaccata della Polizia Municipale all'interno di due immobili sequestrati alla criminalità organizzata. È quanto stabilito dalla Giunta Municipale di Campagna, che con apposita delibera ha dato l'ok all'assegnazione ufficiale come previsto dal regolamento comunale. Due gli immobili coinvolti. Il primo, situato in via Starza, che sarà adibito a deposito comunale. Il secondo si trova in via Piantito e sarà adibito a sede distaccata della Polizia Municipale ed ospiterà anche l'associazione Anti-Racket e Anti-Usura e lo sportello Disabilità. Tali beni sono stati trasferiti al Comune nel maggio 2018 dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati.